musica ti ho ucciso ma dai ero dietro io ti sono arrivato in tezzo malvagio bu non mi piace neanche questo fucile prendi l'andertaker vindicator perchè sono wanted sono obiettivi random dove sei di solito a caso il primo viene messo wanted run for your life per quanto tempo? penso finchè non muori non ho visto quanto cacchio è il mio stun? il mio stop 4 minuti l'ho aumentato 4 secondi si uguale headshot 3 minuti si perchè hai il armi potenziato terrato salve ho vinto però ti ho ucciso sono il più stylish most tank longest kill streak most grenade kills ma io sono più stylish abbiamo distrutto sta gente qua sono bot tranne il tipo russo che è entrato a tre quarti della partita ah sono bot che cazzo scusa il fatto che avessero tutti lo stesso nome non ti ha minimamente insospettito ah non me ne ero neanche accorto allora l'andertaker è fantastica fucile a pompa l'andertaker no è la mitraglietta ah si ah si si usavo quella puoi usarla se non sbaglio anche doppia l'andertaker adesso te lo dico subito no l'andertaker non puoi usarla doppia no non puoi usarla le pistole doppie ci stagliono hai visto come si mette le armi doppie si e io il checkpoint no eh non l'ho preso io l'ho preso il checkpoint mi hai ucciso sopra il checkpoint non me l'ha dato non lo so l'idea era proprio quella infatti non ha senso ma non me lo dà dai non è vero non so dove ti andare non mi dava il checkpoint anche se ci stavo sopra vabbè guarda che te lo dà eh non ti dice niente però no no te lo dice we'll go to the next checkpoint il mio Roosevelt un autografo o una granata dipende ma se sparavi i proiettini mi passavano di fianco come hai fatto ad uccidere? perchè sono potenziato oh sono fortissimo in sto gioco ed è la prima volta che ci gioco che cavolo non riesco a ricaricchire però grazie Robby molto gentile dai brobotto no è di Roosevelt brusevelt brusevelt la briefcase Robby è il tuo modo per raggiungermi dov'è? vai la va 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 salta attraverso le granate aspetta run scivola che culo bello essere forte in un gioco in cui non gioca nessuno si infatti si infatti ma dai ma ma se non ho B ahahahahah ciao Robby ciao Robby co co come ahahahahah pulsante centrale del mouse ti fa l'attacco mili ti fa l'attacco mili ma io non capisco come fare tutti sti danni niente miro odio quest'arte mi la due la due o la tre eh non avevo avuto il tempo ero appena spawnato tra l'altro questo mi viene appena spawno guarda io ero spawnato in che vaffa culo da dietro ho spawnato lì ahah almeno io ero davanti a te vabbè sono spawnato lì tra l'altro tu non devi mai stare per me sto gioco oh mi ha ucciso merda si fa uccidere da te che devi uccidere? il wanted che chi è il wanted? ah ah già il russo fatto vabbè fai tu fai tu dai tanto sono a 1100 punti tu stai perdendo col russo sto a chiù io non riesco mai a risalire da te dai io risalgo il russo mi uccide a caso dov'è? va in giro lì ci provo ma il russo è forte preso ma vaffa culo pensavo fosse mister brobot tanto non fa ste cose mister brobot mister brobot è morto ma c'è il treno io come passo? io ci son passato ma c'è il treno io come passo? ho vinto ho vinto ho vinto tu da dietro gli altri quando si tolte un undertaker mi uccide UNDERTAKER Ehi crew guarda non mi hai ucciso non ho ucciso l'altro è venuto fare lo scritto worth it ah è venuto proprio lo scritto si si worth it alve è adesso un scarico guarda che non è che correndo can kill me na 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 vieni qua na 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 non puoi stavo facendo mi è caduto penso che c'è pensaci che mi spara da dietro ma muori ma muori fa chi? mi spara da dietro dai che poi tizio ma va fa culo va fa culo va fa culo ho finito le munizioni non so neanche dove siete ho vinto è finito